Palla dei Mozzi di Gino Marinuzzi, l'opera d'inaugurazione per la stagione 2020 del Teatro Lirico di Cagliari è un'occasione unica per sentire un'opera che non viene eseguita da più di 68 anni che invece ha avuto sempre un grande successo presso i pubblici di tutta Europa fin quando è stata eseguita perché era un'opera apprezzata, soprattutto perché era molto apprezzata l'attività compositiva del suo autore, cioè Gino Marinuzzi del quale probabilmente leghiamo più il nome all'attività direttoriale che non a quella compositiva ma è stato un compositore importante e interessante, qualcuno dice addirittura uno dei più importanti compositori italiani dell'epoca è un'opera particolarmente avvincente, dà una musica piacevolissima quindi vi invitiamo a venire a vedere questa Palla dei Mozzi di Gino Marinuzzi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!